Meteograd. Le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace. Grazie. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per venerdì 12 aprile 2024. Una vasta depressione attiva sul nord atlantico manterrà il getto zonale teso a medio-alte latitudini, favorendo la distensione di una fascia anticiclonica di derivazione azzurriana su tutto il comparto euro-mediterraneo. Tale fascia riceverà anche contributo subtropicale dal comparto marocchino-occidentale, trasportando termiche nettamente superiori alle medie su buona parte del continente europeo. che sperimenterà ancora una volta condizioni climatiche calde fuori stagione. Previsioni meteo in area italiana per venerdì 12 aprile 2024. Nord. Stabile e soleggiato salvo il passaggio di qualche innocuo addensamento alto e stratiforme, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Centro. Condizioni all'insegna dei cieli sereni o poco nuvolosi con al più locali nubi alte e stratiformi di passaggio nel corso della giornata. Sud e isole. Ampie schiarite su tutte le zone, salvo dei locali residui addensamenti sulla Sardegna meridionale e da tratti sulla Sicilia, in rapida dissoluzione dal pomeriggio. Temperature massime in ulteriore aumento con punte fino a 27 gradi Celsius nelle conche interne del centro nord-lato tirrenico, specie in caso di venti di caduta dall'Appennino. Minime nel complesso stazionarie. Le termiche in quota inizieranno a schizzare in alto verso valori nettamente oltre la media. Ventilazione tra debole e moderata dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sulle isole e sul basso Adriatico. Mari da mossi a localmente molto mossi a sud della Sicilia, con moto ondoso in attenuazione. Tendenza in area italiana per sabato 13 aprile 2024 e domenica 14 aprile 2024. Weekend all'insegna di tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola che sarà interessata da un anticiclone di derivazione azzurriana a netto contributo subtropicale, identificabile in termiche in quota nettamente sopra media, fino a valori simile estivi. Si raggiungerà diffusamente una 15 ad 850 etto pascali in area alpina con elevato rischio valanghe. Anche al suolo le temperature schizzeranno in alto, sfiorando in alcuni microclimi delle conche interne i 30 gradi Celsius di massima. Locali banchi di nebbia di prima mattina in Val Padana centrale. Venti deboli settentrionali. Grazie a tutti della vostra attenzione. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanellina per ricevere le previsioni aggiornate.